ed infine andiamo a vedere l'ultimo strumento di oggi questo strumento intitolato Google Sets sempre uno strumento gratuito offerto dal grande Google aiuta a trovare delle ricerche filtrate noi andiamo a inserire per esempio tre parole chiave e cliccando su ricerca Google ci darà un'idea sulle correlazioni con altre chiave per esempio cominciamo ad andare sul nostro strumento http.slash.labs.google.com sbagliato slash sets s-e-t-s invio ok ci comparirà subito questa bella paginetta sui puntini neri possiamo avere cinque nostre frasi chiave e Google ci darà le correlazioni per esempio tutti noi conosciamo per esempio l'omicidio di Sara Scazzi ad Avetrana se noi andiamo a scrivere Sara omicidio e andremo a cliccare su small set per una piccola ricerca o large set otteniamo ecco Sara e omicidio sono le nostre parole chiave subito dopo otteniamo Avetrana poi scazzi poi mi inseri poi Sabrina eccetera quindi Google ci dà tutte le altre parole che le persone vanno a ricercare se inseriscono Sara e omicidio quindi per esempio una persona avrà scritto omicidio di Sara Scazzi ad Avetrana quindi queste quattro queste prime quattro parole saranno veramente importanti e non potranno non mancare nel titolo del tuo articolo per poter riuscire ad avere una grande visibilità quindi ti consiglio a tutte le parole da prendere in considerazione all'interno del tuo articolo cronaca avvocato anche ragazza eccetera anche parole che a noi non ci verrebbero in mente però la gente non tutti sono esperti quindi ricercano anche parole che noi non potremmo mai immaginarci Geova per esempio probabilmente qualcuno di loro io non sono molto informato era testimone di Geova quindi la gente cerca anche questo quindi questo strumento è veramente molto importante che riesce a darti delle correlazioni con altre parole chiave che tu magari non avresti mai pensato ma che la gente ricerca grazie a tutti